E se fossimo proprio noi a risvegliare Nezarek? Con le nostre azioni? Credo sia esattamente quello che stiamo facendo E' nostra responsabilità, cioè quindi l'abbiamo svegliata per poi ucciderlo di nuovo Lei è di co***e che devi morire Welcome to the once more I said show Scusa once ma... Sì? Sto usando... Cos'è questa addosorola? Perché mi guardi il pistolino? C'hai lì fuori? Sì, c'ho il pistolino in mano Fai un teamer 3, 2, 1 8 Huge È veramente sinistra, cazzo Vado, pistolino Che forte è il pistolino Guarda, distrutto Io ne ho uno qua, l'altro è dove era prima, da te Ah, torni dietro Puoi farlo, lombi? 3, 2, 1 Nooo 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 E io così no Mi ha camperato l'opzionico Questi mi sembra che siano divisi in sinistra e in destra, quindi se dividete l'arena in destra e in sinistra, voi due... Eh, proviamo Proviamo, proviamo Siamo così I lombi sinistra e once destra Sono tutte e due a destra Ok, faccio questo qua sotto 3, 2, 1 Tutto perfetto Perfetto Diego, stavolta Parca puttana Holy shit, sacra Siamo Un cazzo di cosino di fronte Un titano non può troppare un tetra al montetto Oh, cosa cosa? Cosa che gli ha dato un'arma rossa Ma cosa, come va bene? Il pompa Lo so, che bello Il pompa Anche a me il pompa, però il rosso Anche a me il rosso Lombi, perché abbiamo fatto lo step di psionici E faccio tutto io e once, facciamo adesso Oh, lì Ma quanta gente c'è? Davvero C'è una festa qua? C'è un aspirante di Nazarack qui sopra Aspirapolveri Aspirapolveri di Nazarack Presentagli Delicronacare Morto C'è una palletta di quelle che piacciono a Diego, distrutta E' quasi della telecronacare di tutto quello che trovi No, no, non un rampino qui Ah, Serge Mi lo acquisto degli ultimi cinque anni, diresti Pensavo degli ultimi cinque giorni Beh, anche Tra l'altro il mio amico di ieri potrebbe essere interessato se avete un altro scarpietto Ma dici interessato a clan? Me l'ha dato la faida, ma non l'abbè Ah, mi dispiace, abbiamo finito gli slot, finchè non siamo tutti in rank 7 non possiamo più invitare i guardiani Mi bloccano Uh Ma cosa sono tutti sti cecchini? Oh, ma ci sono sempre stati Eh... Sexy lady Io ho messo tutte le armi Io ho messo tutte le armi No, no, sacresta, nooo Aspetta che è un mezzo E' proprio in barriera, si Oh, barriera Nukato Ma quando? T'ho chiesto Questa settimana? Questa settimana ero tentato di lanciarle Ghiit Vedete che c'è il passio per tre persone qua Oddio Madonna, sono stato morto Non so cosa sia successo No, io ho No, non devo prendere il buff Eh, l'abitudine Ci sono già degli automatismi Molto male Gli automatismi entrano in barri Gli automatismi molto male o? No, 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 è che è molto male il fatto che ci siano degli automatismi È vero Già ora Dopo Una settimana Neanche Quattro giorni Che cazzo dico? È uscito venerdì Sembra che sia passato un mese dal D1 Non è in realtà Vuoi il patroia? È troppo il nostro Su gli scudi Io non vorrei dire ma Gigi Ma stai Quattro petti su quattro Tutto petto Bravo Dado Peccato tutto petto Ci entriamo tutti qua? Non credo Faccia un po' spazio signora Vai che piano scende Andiamo Ci siamo tutti O sale A quanto pare Vai Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma morendo Ma c'è 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 un Greg in la casa di Attacca E' veramente malissimo Sono morto male Ci sono anche i cabal che guardavano Mi devono stuporzioni Oh oh Ragazzi No non è partito Qua è quasi disattivo eh Qua moriamo adesso Adesso è partito Adesso è partito Adesso è partito sì No no arriva dietro Ho fatto una stranzata Ho fatto una stranzata Ho fatto una stranzata Lo avete preso tutti Palle Ti l'ho preso Ok Stap di merda Stap bro Ma questo non lo prendiamo? Non lo so Quanto pare no Non ce l'ha nessuno Corriremo Sto Viaggiando veramente Sì Io mi fidavo di qualcuno che l'avesse preso No Nessuno l'ha preso Stiamo morendo Stiamo morendo Nessuno l'ha preso Nessuno Vabbè C'è la sacra stanza C'è la sacra stanza Ok è finita è finita è finita La tenenza Let's gooo E tron E sicuramente il potere Ma pezzo Quello inutile sacco di merda Ti va? DPS con Corsi 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 Vediamo Allora è dato o è lanciarazzi? Ops Scusate Vabbè dai Quindi cominciamo vabbè A quanto pare Mettermi qua vuol dire che è start Salire sì Finchè sei in quelle sotto no Se ne sali un po' Qua si sente Si sente aggredito il boss chiaramente Eh ti sei vicino un po' Come hai usato Vabbè il tuo continua ad essere il 3 ovviamente once Era io che avevo sbagliato Io il mio è il 2 Cioè il tuo era il 2 Che cazzo ho visto? Lo so solo io Un giramento di testa praticamente C'è stato Quindi rimangono lo stesso Non si rimescolano comunque Eh no Anche perché non saprebbe dove andare quindi Ah Ok Ah 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 Oh 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 Mini Cazzo Cazzo Fatto centro È difficilissimo colpire la gente da qua col pistolino Eh abbiamo È chiaro però eh Ok sinistra No, proprio non c'ha nessuna meccanica questa piramidina Ci speravo ma non è così No, c'ha la meccanica, fa partire subito la fase di danno Non è vero Ci entro? No, non è vero, adesso Piramidina Final stand Niente Ancora non è danno Adesso, adesso, adesso Moltissimo danno, moltissimo danno, più danno Let's go Che cazzo sta facendo? Se mi dà un altro petto Se mi dà un altro petto Oh no Qual era la sfida invece di questo? Eh, l'asciugamano Ma cos'è sto cosetto che gira, scusatemi? Ma la pozza ne vogliamo due Ma Che cosa che gira? C'è una palletta di tela scura che gira È il vermetto affezionato a Laura Perché uova c'è un vermetto che ne insegue? Perché gli stagoni hanno i vermetti che ne inseguono Quell'altro dai Ma sempre con Ciclip? No Ehm 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 Quello del cala, come si chiama? Dai In testa calda In testa calda, bravo Dall'inizio, ogni volta Di sotto Uaah 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 L'ha schivata Lo facciamo, dove si trova DF Manga? Calabrese improvvisamente E' apposta No no, colpi di diviniti Ma che scopo è quello, quindi? Ma su di voi, occhio Può parlare in quello che vuole Preso Antiwipe è qua, eh, ragazzi Ah, ops Ehm Ci provo Minchia che è un problema No, dai, non è un problema Non è un problema Che c***o Forse non bisogna fare la meccanica Quell'antiwipe Aia Ma no, se... Da dove scopo che la fate No, se avete fatto Sì, sì, tutto fatto Ok Tutto fatto, tutto fatto Eh, l'amministratrice Sì Esatto, esatto Eh, lo scopo pezzo di me No, ma che c***o Me ha spinto giù Vado, ragazzi Vai, vai, vai Figlio di puttana No, torna qua Diego, metti la pozza Sviate, cambiate Sviate 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 Mettete Mettete Una pozzetta Piccola Messa Bra E la granata La granata Ragazzi Da nade Ce lo siamo Ricordati Ce lo siamo Ricordati E E Cassa Cassa rossa Fa troppo Ad esotico Attenzione, l'esotica Ho droppato il pompa Ha droppato il pompa, veramente? Alza, apri gli occhi Eccomi Non vedo niente Wow Che dubbiettona Bello il tuo casco, sì Allora E quindi l'hai droppato davvero Bravo, non mi rimani fermo così Non so veramente cosa dire Beh, se lo merita Se lo merita perché è stato veramente un community Un bar Mai visto una persona Così in lutto come Dado Per le sue necrotiche Dicono che se rimani abbastanza in silenzio All'interno del nuovo ride Sia ancora possibile sentire Le sue imprecazioni O non la metto io o me lo ricordate Perché altrimenti mi dimentico di rimetterla a scuro Ok, ci sta Ma Diego, ma io avevo capito Ci sono cose più gravi, Diego Tipo l'ombia dredgen dorato qui Cinque volte Precisi Mamma mia Ma quel season lo vedi? Si è fatto da solo, eh? Grazie a tutti No